Perché poi è ovvio che quando io faccio un'analisi dei consumi questi temi quali devo, non posso non conoscerli, è ovvio che voi dovete avere una prospettiva multidisciplinare, tutto quello che c'è nel mondo. Sono Luca Giordano, sono un docente di antropologia politica e sociale presso l'Università di Bologna e ultimamente mi sto occupando di business antropology e anche dell'applicazione dell'antropologia al mondo della vendita. Sono convinto che la disciplina antropologica possa contribuire molto al campo della vendita perché ovviamente le sfide della globalizzazione sono anche quelle di operare in contesti profondamente diversi dal nostro e l'antropologia ti fornisce gli strumenti per comprendere e quindi per agire meglio in questi contesti. Da sempre è una scienza abituata alla diversità e il suo metodo, che è quello dell'osservazione qualitativa, è sicuramente applicabile a questo campo.